Il violato, appena sorsa dalle vili delle pule della croce, asserragliato dentro come a impedire che il tremore del corpo mi facesse continuare un uomere, muggolando anch'io, forse nata dal terrore, e continuavo a graffiare, a sbuffare, a battermi il capo con, aiuto, aiuto, gridavo, forse regno. Mi aveva incantato, ma l'incanto mi aveva dormito dentro per anni e anni, solo da poco mi si era risvegliato, ogni volta che la riusa è qui a te, il male mi riprende. Guardatevi! Non ti preoccupare, non è niente, non ti preoccupare, non hai paura, non hai paura, non hai paura. Le braccia, almeno le gambe, mi fiamma! Ah sì, ah sì, vieni, è qua, qua, questa è matta, questa è matta! Grazie, grazie! Grazie a tutti. E' stata un'esperienza esaltante sotto molti aspetti.